Ciao ragazzi, nei due video precedenti abbiamo parlato degli operatori aritmetici e degli operatori di confronto. In questo video parleremo degli operatori booleani, che vengono spesso utilizzati all'interno dell'istruzione if. Il primo operatore booleano è l'operatore end. Il suo simbolo è questa dalla doppia e commerciale. Facciamo subito un esempio del suo utilizzo. In questo sketch che ho preparato, qui ho rifinito due variabili, val e val2, e alle due variabili ho assegnato il valore di due canali analogici diversi. Supponiamo di voler eseguire delle istruzioni soltanto se, ad esempio, val assume un valore maggiore di 20 e val2 assume un valore maggiore di 50. Come dovrò scrivere? Dovrò scrivere if val val è maggiore di 20 e val2 maggiore di 50. Chiusa tonda, aperte le graffe, qua poi andranno le varie istruzioni da eseguire. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la condizione che rende vera dell'if, insomma, la condizione dell'if è vera, se entrambe queste condizioni sono vere, quindi se val è maggiore di 20 e val2 è maggiore di 50, allora l'intera condizione è vera e vengono eseguite le istruzioni all'interno dell'if. Basta che una sola delle due sia falsa perché l'intera condizione sia falsa e non vengono eseguite le istruzioni. Bene, passiamo al secondo operatore booleano. Il secondo operatore booleano è l'operatore OR e queste, le due stanghette verticali, sono la sintassi che dobbiamo inserire. Se io, ad esempio, qua al posto dell'end ora utilizzassi l'OR in questo modo, come cambia? Ecco, cambia in questo modo, cambia che l'intera condizione è vera se val è maggiore di 20 oppure val2 è maggiore di 50, ovvero basta che una sola delle due condizioni sia vera perché l'intera condizione sia vera e quindi vengono eseguite le istruzioni all'interno dell'if. Se entrambe le condizioni sono vere, l'intera condizione è vera e le istruzioni vengono eseguite. Quindi basta che una sola delle due sia vera. Se entrambi ovviamente sono false, se entrambe le condizioni sono false, l'intera condizione è falsa e le istruzioni all'interno dell'if non verranno eseguite. Passiamo ora al terzo operatore booleano che è il not rappresentato con il punto esclamativo. Qua nello sketch io ho definito una variabile booleana dig che andrà a leggere ad esempio lo stato di un digitale che io ho già definito come input, il digitale 5. Ad esempio dig uguale digital read 5. Bene, qui il digitale read mi restituirà un valore che sarà false o true. Quindi dig assumerà un valore false o true. supponiamo di voler eseguire l'istruzione delle istruzioni se dig è true. Come dobbiamo scrivere? Basterà scrivere if dig aperte graffe e qui inserire le istruzioni. Se dig è true, quindi se questa condizione è true allora vengono eseguite le istruzioni. Supponiamo invece di voler eseguire le istruzioni se dig, la variabile dig assume il valore false. Basterà inserire davanti a dig il punto esclamativo in questo modo. In questo caso le istruzioni verranno eseguite quando dig è false. l'operatore not può essere utilizzato anche in altri in altri modi. Ad esempio potrei scrivere if val maggiore di 20 ecco, se io ora scrivessi racchiudessi val maggiore di 20 fra parentesi e davanti alle parentesi inserissi un punto esclamativo in questo modo la condizione risulterà vera quando non quando val è maggiore di 20 ma avendo inserito il not davanti quando val è minore di 20 questo è soltanto un esempio per farvi capire che l'operatore not può essere utilizzato anche in questo modo ovviamente qui è potevo benissimo scrivere dall'inizio val minore di 20 senza inserire l'operatore not bene per quanto riguarda gli operatori booleani è tutto nel prossimo video parleremo degli operatori composti grazie a tutti grazie a tutti